la storia di corvo papà anzi di papà corvo è la storia di un bambino come tanti bambini i cui genitori all'improvviso decidono di separarsi è una storia all'inizio molto dolorosa perché il protagonista francesco non accetta questa separazione anche se il papà lo va a trovare lo chiama e a un certo punto decide come regalo per il compleanno di prendere un bellissimo pupazzo di un corvo e questo pupazzo di corvo per lui diventa il suo papà anche se in realtà non assomiglia per niente al papà però lui vede in questo corvo il suo papà questo corvo lo aiuterà a superare il dolore ma lo aiuterà anche a farsi degli amici e ad accettare questa separazione è una storia serena anche se l'inizio un po triste vedrete che la storia finisce bene insomma ho scritto perché prima di tutto molti genitori quando si separano fanno soffrire i loro figli ecco questo libro questo piccolo libro vuole insegnare a come separarsi senza far soffrire i bambini purtroppo i genitori possono smettere di amarsi però non smetteranno mai di amare i propri figli e poi i diritti dei bambini ma vogliamo mettere ma un bambino ha diritto ad essere amato da tutti e due genitori e di averli vicini sapete questo libro da cosa è nato è nato grazie a un mio lettore ero in una scuola a presentare una storia e uno dei piccoli bambini presenti mi ha detto alessandra ma nelle tue storie i genitori sono sempre contenti non lasciano mai i loro bambini ecco non puoi scrivere una storia per me a me mi hanno lasciato i miei genitori si sono separati e tornata a casa mi sono messa a scrivere e così è nato il corvo papà o papà corvo e papà corvo parla anche di tanti uccelli come questo che vedete qua di uccelli strani buffi ed è bello scoprire le storie degli uccelli leggetelo mi piacerà moltissimo ne sono certa grazie a tutti